Buonasera, il pubblico ministero Marino Cerioni nella sua requisitoria ha chiesto alla Corte d'Assise la condanna all'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi nei confronti di Paulin Nicai accusato di aver ucciso con sette colpi di pistola il connazionale Siberi Nimet il 17 marzo del 2014 nel parcheggio della Conad di Misano Adriatico. Vediamo il servizio di Gianluigi Lucarelli. Ergastolo e questa la condanna chiesa al pubblico ministero Marino Cerioni nella sua requisitoria alla Corte d'Assise oltre all'isolamento diurno per sei mesi nei confronti di Paulin Nicai accusato di aver ucciso con sette colpi di pistola il connazionale Siberi Nimet il 17 marzo del 2014 nel parcheggio del Conad di Misano Adriatico. Nicai era stato bloccato e arrestato dopo una latitanza all'estero resa possibile grazie alla copertura di alcuni parenti. Ora deve rispondere di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dalla presenza della moglie incinta e dei figli minori della vittima e dai futili motivi. Difeso dagli avvocati Cesare, Roberto Brancaleoni, l'albanese era confesso per quell'uccisione eseguita nel parcheggio con sette colpi di pistola. La vittima stava caricando con la moglie una spesa a bordo della loro auto una Mercedes classe A. Improvvisamente è stato avvicinato da Nicai a bordo di un'auto che poi ha fatto fuoco ad altezza uomo. Alla base ci sarebbe stato un regolamento di conti dettato dal codice Canun per vecchi dissapori tra le due famiglie. Da lì iniziò la fuga dell'omicida, la titanza che però terminò dopo un mese di caccia all'uomo. Nicai venne rintracciato in Svizzera nel cattone di Berna, poco lontano dal capoluogo. Nella prossima udienza che è stata fissata per il 5 marzo si concluderanno le repliche della difesa. Comincia domani davanti alla Corte di Assise di Appello di Bologna il processo di secondo grado per Giulio Caria, muratore sardo di 37 anni, condannato a 30 anni in rito, abbreviato per l'omicidio della compagna Silvia Caramazza. Il corpo della commercialista, uccisa tra l'8 e il 9 giugno 2013 con sette colpi sferrati con un oggetto contundente mai trovato, fu scoperto in un congelatore a Pozzetto nell'appartamento in cui viveva a Bologna il 25 giugno. Caria fu fermato in Sardegna due giorni dopo. È stato condannato il 20 settembre 2014 per omicidio aggravato da stalking e dall'aver agito con crudeltà dall'occultamento di cadavere e per aver rubato banco ma carta di credito alla donna, oltre che minacciato testimoni. Caria che si è sempre detto innocente, detenuto a Pesaro ed è difeso dal penalista Savino Lupo rimasto unico suo difensore. L'avvocato ha presentato un corposo atto di appello che punta in particolare a contestare quanto affermato dal gruppo in merito alle aggravanti. Già da un paio d'anni il commissariato di pubblica sicurezza di Faenza e la polizia municipale faentina hanno diffuso un opuscolo dal titolo Regalati una città più sicura che contiene una serie di consigli utili ed efficaci per evitare di trovarsi vittime di reati che colpiscono profondamente la sicurezza di tutta la collettività. Ci parla dell'iniziativa il dirigente di commissariato di polizia di Faenza, Silvia Gentilini. Questo è un progetto che la polizia di Stato fa insieme alla polizia municipale di Faenza, quindi è un progetto creato insieme con il comune di Faenza ed è sostanzialmente un opuscolo, una brochure che contiene una serie di comportamenti utili e a nostro avviso anche efficaci per evitare poi di trovarsi vittime di reati che colpiscono profondamente la persona e quindi tutta la collettività. Si tratta di indicazioni in realtà molto semplici, chiare, possono anche sembrare banali, in realtà sono piccoli suggerimenti che messi insieme costituiscono un campanello di allarme, quindi un prezioso vademecum per chiunque, mettendo in atto una serie di piccoli gesti e facendo piccoli pensieri, ponendo piccole attenzioni, possono tutelarsi per evitare brutte sorprese. Quindi vengono indicate anche in questa brochure tecniche anche di manipolazione che vengono frequentemente utilizzate dai malviventi, in particolare nei confronti delle fasce più deboli, quindi delle persone anziane, che sono purtroppo facilmente suggestionabili. Si suggeriscono anche tattiche di difesa, ricordando che è vero che le persone più colpite sono quelle anziane, ma che ciò non significa che comunque questo problema riguardi solo loro. Quello che volevamo ribadire è che questo pulpo esiste già, è un progetto che è già in circolazione da un po' di tempo a Faenza e che è tanto importante proprio perché riusciamo in qualche modo a dare anche un edito di quelli che sono i risultati che ha sortito, perché in effetti poi andando ad analizzare i dati della criminalità riferiti ai cosiddetti i reatti predatori, quindi forse un appartamento, le truffe, quelli che più colpiscono proprio i cittadini, possiamo anche dire che forse in qualche modo l'attenzione che ha posto la lettura di questo puscolo ha dato qualche risultato. Noi teniamo presente che il quadro complessivo dei reatti in città ha registrato dal 2014 al 2015 una diminuzione superiore al 25% in generale, in particolare poi appunto per i cosiddetti reatti predatori, in specifico furti, rapine e truffe, hanno visto una diminuzione del 20% nel medesimo periodo. So che si fa fatica a percepire questa diminuzione, in realtà poi, e non voglio neanche dire che sia il frutto ovviamente della felice osservanza di questi piccoli suggerimenti, però forse un innalzamento dell'attenzione generale ha fatto sì che insomma qualche comportamento forse un po' troppo abitudinario, non troppo attento nei confronti della sicurezza anche della propria casa, piccoli gesti in realtà probabilmente qualche effetto hanno sortito. Giuseppe Pino Giglio, uno dei principali imputati nel processo di Indrangheta Emilia, ritenuto dalla DDA di Bologna un organizzatore dell'attività di associazione, potrebbe decidere di mettersi a disposizione degli inquirenti per collaborare nei confronti dell'imprenditore che risiede a Montecchio Emilia e che da oltre un anno è al 41 bis, è stato attivato un dispositivo di protezione di alto livello. A darne notizia sono le pagine bolognesi di Repubblica e la Gazzetta di Reggio. Nella requisitoria del processo in rito abbreviato in corso i PM Beatrice Ronchi e Marco Mescolini hanno chiesto per Giglio 20 anni contestandogli ben 30 capi di imputazione. Secondo quanto si apprende i suoi familiari non avrebbero intenzione di accettare il programma di protezione. Approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri l'atto che supera il dissenso espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali nell'ambito della procedura di via valutazione di impatto ambientale per la Cispa Dana. L'atto di fatto sblocca i lavori che si erano interrotti nel 2015, ce ne parla l'assessore ai trasporti delle Mine Romagna, Raffaele Donini. Con questa decisione il Consiglio dei Ministri fa compiere alla Cispa Dana un importante giro di boa. Ora davvero è importante per noi continuare il percorso per rendere questa autostrada statale e far sì che si possa finalmente cantierare entro questo mandato un'infrastruttura che per noi è necessaria e prioritaria. Il 2015 è stato un anno da incorniciare per il turismo in Emilia Romagna. A commentare il bilancio molto positivo per l'annata appena conclusa è l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini intervistato da Massimo Montanari. Quali sono i numeri più importanti che è giusto segnalare? Credo che due siano i numeri più significativi. L'oltre milione e mezzo di presenze in più rispetto al 2014, i 46 milioni di presenze superate, una sostanziale tenuta sui mercati internazionali che è comunque un grande risultato se consideriamo 400.000 arrivi in meno dal mercato russo per ragioni legate alla crisi del rublo e a questioni geopolitiche che interessano quel paese e soprattutto una crescita di quasi il 5% del mercato interno. Questi sono i numeri del 2015 della nostra regione in linea con quelli del paese e credo che da questi numeri si possa davvero ripartire dopo anni di stagnazione, dopo anni di flessione per fare sempre di più del turismo un asset economico fondamentale per il nostro paese e per la nostra regione. Anche adesso nella regione c'è questa nuova legge sul turismo che lei ha tanto voluto caldeggiato, ormai sta avendo la luce e quindi cosa cambierà con questa legge? Se noi potevamo stare fermi dopo un 2015 positivo ma abbiamo deciso di rilanciare, di riformare una legge regionale storica come la legge regionale 7 del 98 perché in 18 anni il turismo è cambiato, è cambiata la domanda, è cambiato il modo di consumare turismo, di approcciarsi al mercato, di comprare anche vacanze e proposte commerciali e quindi lo abbiamo fatto mettendo al centro questo cambiamento, le grandi destinazioni turistiche della nostra regione, l'Emilia attraverso il nuovo brand via Emilia Experience, la Romagna in un'ottica di integrazione fra i prodotti quindi non più solo il prodotto ma la destinazione con i grandi prodotti integrati fra di loro e con il rapporto pubblico privato che deve essere ancora l'asse di riferimento per le strategie e per le politiche che attueremo nei prossimi anni. Domani a Roma in programma il presidio dei Bagnini per sensibilizzare il governo sul futuro delle 30.000 imprese balneari. Ce ne parla Danilo Piraccini, presidente della cooperativa Bagnini di Cervia. Domani è una giornata importante, la presidione dei Bagnini è considerata presidio, quindi non si tratta in realtà di una manifestazione ma di un presidio di sostegno in relazione all'appuntamento organizzato dalla regione Liguria in cui in quanto si sta sviluppando l'idea, la possibilità, l'opportunità quindi siamo nell'ambito delle proposte di procedere a una demanializzazione delle aree dei Bagnini in prossimità del mare. Naturalmente questo è l'ambito del posto ma tutto aiuta a contribuire ad allargare il dibattito specialmente in un periodo particolarmente stringente in quanto tutta la comunità Bagnini in attesa è in attesa della sentenza della Corte di giustizia europea la quale è stato da derivere sulla validità della proroga dal 2015 al 2020. Come molti sapranno la comunità europea non ha avvallato, non ha rettificato la proroga al 2020 spostata dal 2015 dal governo Monti per cui a seguito di un ricorso di due concessionari paralleli della Sardegna si fa riferimento opportuno di rincare la Corte di giustizia europea. Questo comporta un aumento della pensione perché quando si delega la Corte di giustizionale vuol dire che la politica si ferma, non può intervenire e naturalmente è l'interpretazione delle norme costituzionali e delle norme che sovrastano le leggi nazionali. Quindi in attesa a breve di questa sentenza direi c'è una ripresa dell'attività sindacale e per questo motivo che domani saremo Roma a sostegno in questo senso. In chiusura, come di consueto, le previsioni del tempo per tutta la settimana in Emilia Romagna che oggi sono a cura di Fabio Dalio. È in atto proprio in queste ore una fase più fredda dai connotati tipicamente invernali sull'Emilia Romagna per una perturbazione che dal Mediterraneo sta risalendo verso l'alco alpino e dentro domani richiamerà correnti ancora più fredde di origine nord-orientale sulla nostra regione. Mercoledì quindi tornerà a cadere la neve sulla dorsale appenninica a partire da quote di bassa collina, quindi dai 300-400 metri tra il Mondenese e il Reggiano, oltre i 700 metri invece sulla Romagna. Il resto della settimana comunque proseguirà in maniera decisamente migliore con ampie schiarite a partire da giovedì grazie all'aumento graduale della pressione dove avremo qualche banco di nebbia al mattino in pianura e così venerdì e poi weekend saranno caratterizzati tutto sommato da condizioni di bel tempo prevalente. Per quanto riguarda le temperature, queste inizialmente rimarranno basse anche di giorno, specie domani, quindi in media con il periodo, mentre da giovedì le massime torneranno a superare gli 11-12 gradi in pianura e le minime rimarranno comprese tra 1 e 4 gradi. Nel weekend invece le massime potranno anche toccare punte di 15 gradi per l'inalzamento dell'alta pressione caratterizzata anche da correnti di natura nord-africana che quindi appunto favoriranno temperature anomale ancora una volta in questo strano inverno. E adesso le previsioni del tempo per la giornata di domani. Al mattino cielo coperto molto nuvoloso con precipitazioni deboli moderate sul settore centro-orientale. Nel pomeriggio progressiva attenuazione della nuvolosità con residue deboli precipitazioni sul crinale appenninico centro-orientale. Quota neve attorno a 600-700 metri, temperature minime attorno a 5 gradi, massime stazionarie tra 7 e 9 gradi, venti deboli da nord-est con rinforzi al mattino su mare e fascia costiera, in seguito deboli variabili. Mare mosso con moto ondoso in attenuazione. Per oggi è tutto, vi lascio a Oltre la Notizia, vi do appuntamento a domani come sempre con il nostro telegiornale alle 20. Buona serata, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.